Salve ragazze, salve, benvenute, bentornate, questo è il mio canale, io sono Zahira, la vostra Zahira, qui siamo al mio interattivo breve, quello dove racchiudiamo un po' tutte le vostre richieste. La richiesta di oggi è mi pensa, cosa pensa e soprattutto mi dirà ciò che pensa, quindi andiamo a vedere, a scavare i suoi pensieri, se appunto li ha verso di noi, verso di voi, cosa pensa e infine andremo a vedere se questa persona avrà il coraggio di dirvi ciò che pensa. Allora le carte che ho deciso di utilizzare oggi sono i tarocchi delle stagioni, i messaggi magici delle fate, le carte verdi di Zahira e poi infine prenderemo una di queste meravigliose carte della luna per un consiglio da parte di queste carte per voi. Allora ragazze, io inizierei subito, mischio le mie tarocchi, nel frattempo vi voglio dire che sono interattivi generali, quindi non vi fissate sulle, appunto, sulle, i responsi, prendetele con le dovute cautele, fermo restante che se volete analizzare una situazione che vi sta particolarmente a cuore, nella descrizione del video ci sono i miei contatti zahirafasteri.gmail.com oppure nel mio profilo facebook zahirafasteri messaggio privato o ancora nel mio profilo instagram zahira e i suoi tarocchi. Quindi ragazzuole mie, ragazzuoli miei, mi raccomando, con cautela. Poi vi voglio ringraziare di seguirmi tanto, vi ringrazio per i vostri like, per le vostre iscrizioni, per l'amor di dio continuate così perché a noi, a noi tutte che facciamo questo, diciamo, tipo di attività su youtube servono i vostri consensi. Io ne ho abbastanza e vi ringrazio di cuore, ma spero sempre di averne sempre di più. Quindi detto questo, io arrivo subito al nocciolo della situazione. Andiamo a vedere se questa data persona vi pensa, cosa pensa e se vi dirà ciò che pensa. Iniziamo subito. Quindi vediamo se mi pensa e cosa pensa. 6 di spade, 7 di coppe e 2 di coppe. A fondo mazzo abbiamo il re di spade. Cioè mi viene da ridere perché, allora, io vedete, mischio le carte, insomma, vedete che io non preparo nulla, no, precedentemente. Però poi ci sono alcune volte che mi vengono fuori sempre le stesse medesime carte, anche se io sto lì a mischiarle e gli argomenti magari sono un po' differenti, ma vanno sempre a parlare di sentimenti. Quindi queste sono delle carte che mi sono uscite qualche interattivo fa, proprio identiche a parte quella del 2 di coppe. Allora, andiamo a vedere, in ogni caso vuol dire che qua le energie sono più o meno molto forti e persistenti in un'unica via. Allora, andiamo a vedere qua cosa avviene. Allora, questa persona vi pensa e per bacco se vi pensa. Cioè qui proprio centrale viene proprio la carta dei pensieri, la carta dell'immaginazione, del fantasticare. Cioè, questa persona dire che vi pensa è dire poco, perché con il 7 di coppe, l'illusione, l'immaginazione, la fantasia, la fantasticheria. Cioè, questo pensa, vi desidera, pensa che voi siete un desiderio realizzabile, pensa di avere delle false speranze, perché? Perché voi vi siete allontanate, vedete? Lo avete mollato, forse lui ha mollato voi, ma io penso che qua siete più voi che avete mollato voi, ma non è che l'avete mollato perché non avete un amore, perché qua c'è un amore reciproco. Vedete due di coppe, è indubbio che siete l'uno innamorato dell'altro, perché qua ci parla proprio di amore reciproco e comunque di un rapporto felice, di un'unione quasi elettiva. Quindi qua vedete la carta come vi rappresenta, no? Uno negli occhi dell'altro. Con queste due coppe, meravigliosa questa rappresentazione. Ma qui con chi abbiamo a che fare, ragazzi? Ecco che mi viene da ridere, no? Perché abbiamo a che fare con il solito personaggio. Scusatemi, ma io veramente rimango basita, no? Ecco, guardate il personaggio che mi perseguita nelle mie stese. Abbiamo questo re di spade. Allora, è emblematica, vedete? Proprio la sua faccia, il suo sguardo, il suo, così questo modo di, molto autoritario a dire io, io, io. Ecco, questo è uno sapiente, vedete, ha il libro in mano, eh? Questo è uno che sa il fatto suo. Però è anche uno molto autorevole, combattivo. La spada dice, oh, qua tutto come dico io. Quando lo dico io? Sembra il figlio di Giugas Catella, no? Per intenderci. Allora, vabbè, bando alle battute. Qua parliamo di una persona sì carismatica, sì affasciante, però un uomo molto autoritario, un uomo molto tagliente, per logico, dispotico, critico. Insomma, non è una persona molto maleabile, no? È un uomo veramente tosto e può essere anche uno un po' pesante, no? Perché comunque ha una personalità molto molto forte, concentrata, autorevole e vuole sempre il comando. Lui può indossare una divisa, no? Può condurre un battaglione, può essere una persona anche influente nel lavoro, ma comunque, anche se non lo è, è proprio lui una persona che tutto sa lui, è tutto con lui, è tutto dice lui. Quindi qua, mi pensa? Certo che mi pensa. Come vi pensa? Ma vi pensa con amore, ragazze. Vi pensa con amore, vedete? Nonostante questo allontanamento, questa sorta incerta, non sa che fine fate, però qua, fantasia, fantasticheria, desideri, tutto. Sette di coppe, due di coppe. Quindi vi pensa con estremo amore. Allora, andiamo ancora a sviluppare. Ma mi dirà ciò che pensa? Quindi qua, siccome è uscito che vi pensa con amore, ma questa persona vi deve dire, vi dirà ciò che pensa. Quindi ciò che pensa significa io ti amo, io sono innamorato di te. Quindi ve lo dirà questo personaggio così, diciamo, un po' enigmatico del re di spade. Ricordo i segni del re di spade, segni d'aria, quindi molto, molto mentali, molto iperlogici, molto razionali, che corrispondono ai segni d'aria. Quindi gemelli, bilancio, acquario. Ok? Andiamo a vedere se vi dirà ciò che pensa. Ho i miei dubbi. Informati, fai delle ricerche. Infatti, dovete proprio ricercare forte per avere una, come dire, una corrispondenza, insomma, una dichiarazione da un re di spade. Gravitanza, il tuo desiderio sta per realizzarsi. Figlio. Allora, intanto qua ci parla di gravidanza, di figlio. Beh, diciamo, vabbè, diciamo che è tutto molto simbolico, eh. Poi, eccetto che ci sarà anche per alcune, alcuni di voi, anche potrebbe esserci la nascita di un figlio. Poi, in questo vostro desiderio realizzato. Perché qua, la prima cosa che mi salta in mente di dirvi è questa carta. Il tuo desiderio sarà realizzato. Bellissimo. Anzi, no, il tuo desiderio sta per realizzarsi. Quindi, qua dice, devi avere fiducia perché le cose si stanno predisponendo a tuo favore. Quindi, informati meglio, fai delle ricerche. Quindi, hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questa situazione. Analizzala attentamente prima di procedere. Quindi, qua vi arriveranno delle informazioni. Sicuramente qualcosa che vi porterà a capire che il vostro desiderio si sta realizzando. Poi, vengono due carte di gravidanza, di nascita, di bambini. Vedete? E queste sono carte simboliche. Perché quando c'è di mezzo un bambino, una gravidanza, una nascita, è sempre un nuovo inizio. Qualcosa di bello che si sta per realizzare. Quindi, è sempre portatrice di grandi benedizioni e di grande gioia. Quindi, qua c'è una gioia proprio enorme. Ed è protetta dall'universo, questa gioia. Quindi, allora, vi dirà ciò che pensa. Ma sicuramente, ragazze, perché con queste carte così belle, che appunto ci saranno delle notizie. Voi lo scoprirete leggendo magari un messaggio o qualcosa. E poi ci sarà questo desiderio che si sta realizzando. E poi c'è questa gravidanza, questa nascita, questa esplosione di gioia dovuto a un evento completamente nuovo. Che si sta verificando nella vostra vita. Certo che sì. Però, andiamo ancora a vedere se vi dirà ciò che pensa. Ok? Con le carte verdi di Zahira. Voglio riconciliarmi con te. Ma certo che ve lo dirà. Vi dirà ciò che pensa e ve lo dirà. Nel modo più giusto e più bello che c'è. Proprio dicendo che vuole riconciliarsi con voi. Però, vedete, questa persona non perde la sua energia di ci puntato o ne o ne. Perché lui comunque è la classica persona. Vedete? Noi uomini, l'uomo che non deve chiedere mai. Cioè, è un po' l'uomo un po' maschilista. Quindi lui poi verrà, si vorrà riconciliare con voi. Però, sarà sempre un po' sulla, io non voglio una relazione stabile. Cioè, questo è uno che poi non ammette mai. Perché il suo essere è così duro, no? Vedete qua. Cioè, questo vi pare uno che vi si mette in ginocchio e dice, sei l'amore della mia vita. Ma vi pare che abbia la faccia per farlo? No. Quindi lui sotto altra forma verrà. Però avrà sempre quel piglio un po' autoritario, un po' puntato o ne o ne. Però dice anche, ti voglio chiamare ma non ho il coraggio di farlo. Vedete? Vedete? Che ho ragione. Questa persona è troppo orgogliosa. È troppo piena di sé. Quindi non fa determinate cose oppure vi fa capire che non vuole una relazione stabile soltanto perché non vuole ammettere a se stesso e a voi i suoi sentimenti. E anche perché, vedete, ribadisce voglio rimanere libero. Quindi questa persona comunque tutto sommato, anche se vi pensa, vi pensa con amore e si realizzerà il vostro desiderio, quello probabilmente che lui ve lo dica in qualche modo perché verrà da voi, perché vuole riconciliarsi con voi, vi vuole chiamare anche se non ha il coraggio di farlo. Però continua un po' con questo suo modus operandi di non volersi, o comunque di non volervi dare l'idea che lui si voglia impegnare con voi. Quindi vi dice, no, io voglio, non voglio una relazione stabile, voglio rimanere libero. Quindi questo è quello che vi dice, anche se ribadisco, qui c'è un amore. Però questa persona di cui voi presumibilmente siete innamorati è una persona con un caratteraccio che difficilmente ammette ciò che prova, perché evidentemente questa persona non è stata proprio abituata sin da piccolo, nessuno gli ha insegnato che l'amore è amore e non è un segno di debolezza. Lui pensa che dire a una donna ti amo è un segno di debolezza, quindi diciamo che il tutto è una sorta di quasi maschera per appunto proteggersi perché comunque è una persona molto orgogliosa. Andiamo a vedere adesso le carte della luna, un consiglio così che vi danno a voi in generale e soprattutto in questa situazione della vostra vita. Quindi prendiamo una carta di queste meravigliose carte della luna, ecco qua, voglio prendere questa, vediamo qua e vediamo che cosa ci dicono queste carte. Gioco, guardate quanto è bella questa carta ragazze, bellissima, io adoro l'illustrazione di queste carte. Quindi che cosa dice, vi ricordate prima che è uscito tutta quella situazione della gravidanza, il bambino, cicci e cocco? Ecco, qua esce gioco, faccio giocare il mio bambino interiore, sono il genitore amorevole di me stesso. Quindi qua ragazze il messaggio che vi dà è che voi con questa persona dovete utilizzare un modus operandi molto leggero, cioè proprio come andare a coltivare questa relazione non facendo capire a lui che magari volete una relazione stabile, no? Cioè di impegnarlo, di incatenarlo, il cappio a collo. No, dovete trattare tutta questa situazione come un gioco, nel senso che lui deve sempre sentirsi libero di poter fare ciò che vuole, ma legato a voi da qualcosa di più sottile, di qualcosa di più, come dire, magnetico, carmico. Quindi qua faccio giocare il mio bambino interiore, sono il genitore amorevole di me stesso. Quindi voi dovete con lui giocare, proprio i vostri bambini interiori si devono scambiare questo amore in maniera giocosa, semplice, spontanea, senza dare per forza dei cliché, siamo fidanzati, siamo sposati, siamo conviventi. No, vivere così un po' alla giornata. Insomma, non è che il gioco è indice di superficialità, il gioco è indice di giocosità, di gioia, cioè di prendere comunque le cose in maniera più leggera, ma non leggera perché non è appunto vero amore, ma leggera nel senso di non appesantire con tutte queste imposizioni, eccetera. E' chiaro che questo è un uomo che poco gli piacciono le imposizioni. Allora, il numero che vi può riguardare è 34 o 43, oppure il 4 il 3, oppure 4 più 3 il 7, anche il 7. Quindi questo è un numero che può in qualche modo significare qualcosa per voi. Ragazze, questo è tutto, spero che questo interattivo vi sia stato d'aiuto. Vi mando un bacione enorme dalla vostra Zahira. Ciao!